La mediazione è un istituto alternativo a quello contenzioso, per cui visto la velocità con cui si può chiudere una controversia, i tempi sono abbastanza ristretti e considerato anche che i costi sono abbastanza contenuti, è considerato che l'amministrazione ha delle risorse abbastanza risicate negli ultimi tempi, è bene quindi che anche noi seguiamo un processo di evoluzione, diciamo in questo senso, utilizzando anche strumenti alternativi a quelli che sono i giudizi ordinari. Questo è un vantaggio, è un'opportunità non solo per il cittadino perché si instaura un rapporto collaborativo, perché molto spesso andare in tribunale con i giudici c'è un rapporto col cittadino molto freddo, invece con una mediazione, quindi con un intervento di un terzo che è media tra due soggetti, che possa essere anche pubblica amministrazione e privato, crea però un rapporto conciliativo, un rapporto bonario e quindi conclude le cause in maniera bonaria e quindi consente di poter rappiacificare un po' gli animi di tutti e poi ho detto un vantaggio anche per la pubblica amministrazione sia per il contenimento dei costi e quindi anche per l'efficienza del servizio avvocatura. L'istituto ha delle problematiche di utilizzo diretto nella pubblica amministrazione in quanto chi poi firma l'accordo è un dirigente che potrebbe quindi è soggetto a un'eventuale responsabilità per danno erariale e quindi abuso d'ufficio da parte dei giudici della Corte dei Conti. Conseguentemente è importante, soprattutto adesso che si parla di riforma dell'istituto della mediazione, che si considerano anche questi aspetti legati un po' alla responsabilità anche dei soggetti che poi partecipano alla mediazione e quindi che si tuteli un po' anche coloro che poi lavorano nella pubblica amministrazione e che purtroppo sono, un po' perché a volte tendono a non assumersi delle responsabilità, ma a volte le responsabilità possono essere tante, per cui dobbiamo cercare di tutelare un po' anche questi soggetti che si occupano poi in pratica di firmare gli accordi. C'è anche da dire che la mediazione va anche valutata, cioè sono gli stessi dirigenti, il stesso servizio avvocatura, gli stessi uffici che dovranno poi fare una valutazione oculata di quelle che sono le controversie che probabilmente possono essere chiuse in maniera bonaria e altre invece dove è conveniente andare avanti, quindi dove l'amministrazione ha l'interesse ad andare avanti in un giudizio ordinario.